Interconnector, la discussione approda gravelluna toce. Il sindaco ha dovuto replicare nel corso del Consiglio Comunale ad un'interpellanza della minoranza. Il progetto del nuovo elettrodotto, che dovrebbe collegare Italia e Svizzera, si trova attualmente in fase di valutazione di impatto ambientale a livello nazionale, quindi è gestito dal Ministero dell'Ambiente. L'interconnector non ha nessuna reale utilità per il nostro territorio, ha chiusato Mario Geraci, Lega Nord, ma al contrario genera solamente svantaggi occupazionali, ambientali e di salute pubblica. Il sindaco gravellonese Gianni Morandi ha espresso parere favorevole nelle scorse settimane per la realizzazione dell'opera, ma ha precisato «il mio giudizio favorevole non sta a significare che io condivida e apprezzi il progetto, ma ritengo che, se l'opera è davvero di importanza strategica nazionale, come dichiarato, allora è giusto realizzarla, seguendo però delle linee guida precise». Il tracciato individuato su Gravelunatoce, ha proseguito il primo cittadino, è condivisibile perché andrebbe a sostituire una linea già esistente che verrebbe smantellata. Inoltre ci sarebbe il vantaggio di vedere sostituita una linea corrente alternata con una linea corrente continua, che genera un impatto elettromagnetico decisamente inferiore. Ma Morandi è il primo ad aver ravvisato alcune criticità del progetto Interconnector. «Le ho già segnalate», ha sottolineato il sindaco, e ho anche presentato una lista di interventi di alleggerimento del sovraffollamento di linee che interessano Gravelunatoce, con particolare riferimento alla zona che circonda la centrale di Corso Sempione. Essendo il progetto in fase sperimentale, non è ancora nota la localizzazione precisa dei tralicci, ma un primo tracciato condiviso tra esecutori e comune è stato individuato presso l'area industriale parallela in via Ciria, che poi prosegue sul versante del Mottarone, dove transita l'attuale linea che verrebbe sostituita. L'amministrazione si assume il compito, ha concluso Morandi, di visionare il prima possibile il progetto esecutivo, al fine di condividerne i contenuti.